Ciao, voglio farti una domanda. Se avessi la possibilità di realizzare un desiderio, un desiderio legato all'aspetto del tuo viso che vorresti valorizzare, quale sarebbe? Ebbene, voglio aiutarti a realizzare il tuo desiderio e ho trovato tre buoni motivi del perché voglio farlo. Primo, perché amo valorizzare la donna con un trucco che l'aiuti a sentirsi bene con se stessa, bellissima in ogni sfumatura, anche davanti allo specchio più temibile. Mi piace entrare in sintonia come un'amica che sa comprendere anche i lati più nascosti. Secondo, perché mi piace rassicurare le mie clienti e dir loro che per ogni problema posso trovare una soluzione. Amo curare i dettagli in ogni aspetto e trovo stimolante sapere accontentare ogni donna nel suo giorno speciale, quasi a far parte di una storia a cui lei sarà legata per sempre. Il terzo l'ho lasciato per ultimo perché forse è il più emozionante per me. Con il mio lavoro cerco sempre per ognuna di voi di creare un po' di magia e portarla nel cuore con tanta cura. Che altro dirti? Credo nel potere dell'ascolto, credo nella personalità che ci rende unici. E infine perché mi piace donare un sorriso di commozione negli occhi delle mie clienti e lasciar loro qualcosa di speciale. Ma ora, vediamo come posso aiutarti. Ti sei mai chiesta qual è la differenza tra un professionista e un chiacchierone? Essere oggi un professionista significa capire l'altro. Ti sei mai chiesta qual è la differenza tra sentire e ascoltare? Solo chi ascolta veramente capisce. Il make-up, quello fatto bene, non è solo decorazione o abbellimento del singolo dettaglio, bensì è la valorizzazione della personalità di ognuno di noi. Per questo le mie donne non si sentono trasformate, ma valorizzate. Il mio metodo? Ascolto prima di creare, scavo alla ricerca dei desideri di chi mi sceglie. Perché no? Non eseguo un trucco ricalcandone uno visto online solo perché ti è piaciuto. Porto un valore aggiunto alla tua personalità. Perché nessuna donna è uguale ad un'altra. Perché quel giorno dovrai essere bellissima e te stessa. Ogni viso ha un'immagine nascosta della propria personalità e una vera professionista ha la capacità di creare un'immagine autentica e meravigliosa che rimarrà per sempre impressa come un ricordo indelebile. Alla mia cliente regalo una parte di me con cui entrare in sintonia per capire come posso accontentarla con il trucco e l'acconciatura che aveva sempre sognato. Ho scelto di specializzarmi nel lavoro più bello del mondo e oggi, dopo 15 anni, sorrido con cuore e mente quando mi presento. Mi chiamo Veronique Viganotti, sono una make-up artist e hair stylist riconosciuta nel mondo dello spettacolo e del wedding. Lo sono diventata grazie a impegno, studio continuo e amore per il mio lavoro. Ma ora voglio salutarti chiedendoti Vuoi che il tuo desiderio venga asaudito? Contattami, ti aspetto!